eccomi 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 buonasera amici e amiche rosso neri ragazzuoli e ragazzuole belle buona serata di questo 5 luglio mercoledì 5 luglio 2023 e buona giornata se mi vedi il giorno dopo di 6 luglio giovedì 2023 sono le ore 19 21 minuti presto che tardi perché devo fare una marea di roba allora ragazzuoli e ragazzuole belle parliamoci molto chiaramente vi devo dare subito questa informazione di servizio lo sapevate che salvatore cerchioni gianluca d'avanzo quelli di blue sky coloro che hanno fatto da ponte apripista per l'arrivo di elliot nel milan o meglio come garanti per il cinese yongong li hanno perso l'ennesima battaglia in questo caso contro praticamente mister jerry cardinale contro redboard perché il consiglio di stato ha negato l'accesso dei documenti relativi a cessione al club rosso nero avvenuta nell'estate 2022 in agosto 2022 per cui blue sky a questo punto rimangono letteralmente a bocca asciutta questi a quanto pare quando fanno le cose questi qua di elliot di redboard sono molto molto bravi da un certo punto di vista avete letto e avete visto chi è il protagonista di questo video o meglio il cartellone del nuovo calendario per il nuovo campionato della serie a stagione 2023 2024 la prima partita si parte per il nostro milan contro il bologna se non mi ricordo male bologna milan sì e praticamente il titolo dice questo redboard e giorgio forlani muovetevi a comprare i giocatori per il milan perché si parte subito a razzo aggiungo io e le ultime news sono quelle che adesso vi darò allora adesso entreremo nel merito entriamo subito che molti di voi già sanno l'approfondimento è questo su questa storia del calendario di serie a che è stato fatto oggi 12 30 io quando l'ho letto anch'io sono rimasto un po' allibito vabbè allora in me c'è una diciamo bivalenza di pensiero ecco adesso ve lo dico subito insomma per farla in breve nelle prime dieci partite di campionato cinque scontri diretti si parte contro la roma terza giornata poi il derby contro l'inter contro la lazio juventus e poi contro il napoli allegria e praticamente a questo punto tutti gli altri club grandi club della serie a dovrebbero stare tutti zitti a apro una parentesi a mio modo di vedere il milan in serie a non dovrebbe più giocare noi meriteremmo di giocare in un campionato superiore nella premier league perché a vedere questa miseria per i diritti televisivi con cui stanno facendo trattative private questo immobilismo sul discorso degli stadi nuovi ma il milan cosa cavolo sta in serie a fare io guardate io ve lo dico sinceramente a me dispiace dire questa cosa è ovviamente una mia una fantasticheria una fantasia colossale perché non succederà mai ma a mio modo di vedere per quanto siamo ricchi quanto siamo virtuosi nei conti che siamo l'unica squadra senza debiti con un attivo di bilancio tutto il resto che stiamo veramente gallopando cosa stiamo qua a fare a fare che cosa a raccogliere le briciole che prendono anche gli altri dai ma per favore non è questione di presunzione è questione che quelli della lega non sanno fare un campionato competitivo e l'ha detto ieri sera anche ai microfoni di sky spalletti luciano spalletti era scatenato ai microfoni sky comunque aveva ragione parlava del calcio italiano che è sempre di bello immobile bello tradizionista ma andate tutti a ciappare ratva vergognatevi tutti quanti comunque tutti gli altri club e cosiddetti grandi club della serie a dovrebbero stare tutti zitti perché non c'era che andare che ci abbiamo noi da un certo punto di vista il mio pensiero bivalente è questo è vero prendiamo un'ammazzata incredibile perché ci sono in ballo con queste cinque squadre 15 punti giusto e fin qui ci siamo bisogna essere comunque positivi il discorso è che adesso sta la responsabilità della proprietà Redbird e Giorgio Furlani di darvi una mossa almeno di prendere questi cavolo di giocatori del centrocampo che servono per arrivare al Reduno non dico tutti per forza entro il 10 luglio ma almeno entro il 15 almeno entro il 20 prima di partire per gli stati uniti ma vi date una mossa sì o no di questi miseri 5 milioni di euro in più che dovete dare per ogni cartellino ma che due palle questi qua adesso a me non interessa niente dell'Inter non me ne frega a me fondamentalmente di questi qua non me ne frega niente anzi sono contento che lo ripeto il direttore sportivo del sassuolo carnevali se l'è presa in quel posto visto che adesso il 30 per cento del cartellino di frattesi va alla roma e questa è una di quelle altre ottime notizie che ci danno una soddisfazione giusta ottima e questa è una cosa quasi goduria a proposito alvaro morata vedi di accettare l'offerta della rabbia saudita della squadra rabbia saudita che ti offre 50 milioni di euro di cucuzza all'anno di stipendio alvaro morata vai invece di venire al milan vai 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 anche questi qui del milan vogliono prendere alvaro morata ma alvaro morata cosa dovrebbe essere il nostro attaccante principale ma non vi vergognate dai ma per favore comunque allora giorgio furlani dottor giorgio furlani redboard datevi una svegliata perché voi mi sa che dormite come non soffre ma cosa cavolo ci vuole a mettere ma avete visto questi qui cosa fanno sti qua che hanno sti debiti pazzeschi cosa che fanno vabbè è ovvio che però non spendono adesso spenderanno l'anno prossimo poi li voglio vedere questo devono vendere vendere no ma loro fanno i calcoli allora se quest'anno vendiamo questo l'anno prossimo forse venderemo quest'altro poi venderemo quell'altro e siamo a poco loro vanno avanti così viaggiano sul filo di lana vedremo come andrà a finire comunque perché prima o poi qualcosa succederà ovviamente però voi della nostra proprietà siamo ricchi siamo virtuosi tutto datevi una svegliata adesso l'importante è almeno chiudere questo centrocampo per far già allenare i ragazzi tra di loro a milanello che si ritrovano per il raduno tutti quanti il 10 luglio ma lo volete capire se o no io lo dico la nostra proprietà la nostra dirigenza però proseguiamo con il nostro calciomercato che anche se fino adesso non abbiamo chiuso sti cavoli di contratti comunque sembra che su pulisi ci siamo vicini perché il milan offre prima 14 adesso ne offre 20 compresi bonus questi eccessi non molleranno ve lo dico subito questi vorranno 20 puliti più eventuali bonus perché andrà a finire così datevi una svegliata di quando pagare sti cavoli di bonus fate delle formule fantasiose ma svegliatevi con sta storia sempre che tutto dei metri a bilancio ma andate a quel paese andateva lo dico a questi qua di questi qui di scuola Redbor di scuola Elliot e tutto il resto avete veramente stufato domani arriva praticamente luca romero 18 anni l'attaccante che abbiamo soffiato praticamente ad altre squadre della liga perché attenzione luca romero lo volevano anche il barcellone e quant'altro a proposito barcellona su arda 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 guler mi raccomando sintonizzatevi su questa notizia vedremo chi avrà ragione se la famiglia affamata di soldi con tutto il resto comunque domani visite il mail che per uca romero si dice un gran bene c'è chi poi tra di voi dice questo è scaso ma ragazzi ma voi lo conoscete personalmente no a punto a capo per cui aspettiamo e la situazione siamo molto vicini per cui Pulisic insomma l'offerta si è alzata luca romero domani le visite Reinders il padre di Reinders ha dichiarato alla tv olandese che suo figlio sta parlando con il club rosso nero e anche lì insomma 20 milioni e qualcosa in più per cui siamo già con Pulisic a 40 questo va anche detto poi io questi qua ma voi vi volete svegliare a fare questi prestiti con obbligo invece di pagare tutto subito no bisogna patrimonializzare ma lo sapete perché loro fanno così i nostri proprietari perché loro dicono se io spendo subito adesso ho già un patrimonio garantito all'interno del club il club aumenta di valore così poi l'anno prossimo ragazzo se va bene lo rivendo a una cifra stellare stiletonale sì però abbiamo bisogno di giocatori per questa squadra svegliatevi visto che non volete spendere soldoni hanno ragione anche loro però ragione anch'io con quello che ho detto no e avete ragione anche voi vabbè dai comunque Pobega rimane è in vacanza in Islanda Daniel Maldini interessato Lempoli e Ciuqueze ha fatto sapere ai suoi agenti che vuole solo il Milan su Musa adesso vediamo però io rimango della mia idea di quello che ho detto fino adesso in nostra proprietà si deve dare una mossa ragazzi partiamo con allora subito col Bologna poi col Torino poi arriviamo con la Roma di Murigno la Roma tra le altre cose mi sembra che vuole prendere Sabitzer adesso vediamo comunque vabbè vedremo comunque Murigno sicuramente un po' alza la lasticella visto che adesso arrivano anche questi soldi freschi 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 del frattesi meno male che si è chiusa state le novelle a frattesi che non ce la facevo più sembra che questi qua hanno preso chissà che cosa e poi ragazzi e poi poi dopo ci capita subito dopo il derby nel derby dobbiamo arrivare pronti insomma questi qua lo ripeto si devono dare una svegliata questi qua se vi dovete veramente dare una svegliata perché voi di Redbird fino ad ora così state marcando veramente male chiudete almeno sti contratti per il centrocampo e poi avanzate nel discorso del calciomercato ma anche te Moncada ma che cavolo stai facendo ma diglielo a questi qua ma fatti sentire io ho grande fiducia nel nostro Geoffrey Moncada grandissimo Tanescao però si deve dare una mossa lo deve dire dobbiamo chiudere per almeno avere i giocatori in quel blocco e farli già allenare per bruciare i tempi con l'allenamento per entrare nei meccanismi di squadra insomma partiamo subito a razzo sto cavolo di campionato poi alcuni di voi vantano anche accuse nei confronti di Beppe Marotta che sa farsi sentire in Serie A sì noi la verità è questa non abbiamo peso in Serie A ragazzi diciamoci la verità fino in fondo in Serie A non abbiamo quel peso che dovremmo meritare e per quello che io dico la fine della fiera è il Milan che cavolo gioca in Serie A a fare cioè giochiamo nella Serie A nel campionato di tutti quelli che hanno problemi economici ma non sto dicendo una cattiveria ma è vero la Juventus ha problemi economici la Roma ha problemi economici l'Inter non ne parliamo problemi economici l'unico che tiene botta dietro il Milan è il Napoli però anche lì il Napoli c'è da vedere bene un pochettino la cosa perché ultimamente anche il Napoli ha avuto i suoi alti e bassi però lo scudetto gli ha dato respiro sì ci sta dietro il Napoli e basta poi per il resto cioè di che cosa stiamo parlando il Lione è stato bloccato nel mercato perché non ha rispettato dei parametri economici in Francia nella Ligan invece noi qua vediamo tutti quello che succede vabbè dai ragazzi comunque lo dico subito chiaro e tondo l'avvicendamento il famoso come vi ho detto nel video di ieri il famoso avvicendamento del cambio al vertice della vittoria per lo scudetto non serve un emerita mazza non serve alla fin della fiera chi manda avanti la baracca sono i grandi club che fatturano soldoni in Italia lasciando stare i debiti degli altri che non ce ne frega niente in teoria se dovessi guardare solo la virtuosismo di quanto siamo ricchi noi dovremmo vincere lo scudetto solo noi del Milan cioè punto e a capo questa è la vera verità perché siamo noi che portiamo avanti la baracca più di tanti altri a quanto pare però non serve a niente il famoso avvicendamento la Roma addirittura adesso stanno mettendo la voce la Roma deve vincere lo scudetto se lo vinceranno lo vinceranno sul campo perché sono bravi ma non che lo deve vincere perché abbiamo fatto prima l'Inter poi il Milan poi il Napoli ma che ragionamenti sono questi qua io lo dico ai giornalisti è mica la Roma cosa me ne frega a me di queste cose qua comunque ragazzi io vi saluto forza mina sempre comunque ovunque è un calendario che si parte lo ripeto in tromba ma la società si deve andare a fare io non voglio mettere tensione tra di voi ma a me questi qua stanno iniziando già a far svalvolare anche a me perché non me ne frega niente di quelle che ha comprato l'Inter ma non me ne frega una mazza i giocatori arriveranno però questi qui devo ripeto ancora devono almeno avere un blocco che un attimino si amalgama con la squadra perché se no qua che cavolo facciamo e poi le cessioni questi qui ma si vogliono dare una svegliata oh il tempo sta volando 5 luglio ma qui si vola vabbè dai vi mando un abbraccio forza mina sempre comunque ovunque Mucata date una svegliata e vedete una svegliata anche a dottor Giorgio Furlani e a coi di Redbird ciao 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 ciao